Ma se vi dicessi che sono cresciuto guardando Quark, sembrerei vecchio? Vabbè, diciamo che si vede uguale, perciò ve lo dico subito. Piero Angela sosteneva che il nostro cervello è fatto in modo che l'attenzione è tanto più alta quanto più uno stimolo o un avvenimento ci suscita interesse. E questo presupposto può e anzi deve essere sempre applicato se vogliamo farci notare. E visto che è facile fare marketing se sai come farlo, stasera con voi voglio fare un esperimento. Vi ho già detto che ho scritto un libro, Cartesio ti odio iperbolicamente, e con la mia casa editrice, Le Pecole Nere Editoriale, abbiamo pensato di pubblicarlo in autunno. E così pensavo di creare anche un piccolo spot pubblicitario per il lancio da pubblicare così sui canali social. Immaginatevi una persona qualunque che entra in una libreria e di fronte agli scaffali deve scegliere il libro da acquistare. La sua attenzione però viene interrotta da 3, 4, 5, 6 persone che entrano correndo all'interno della libreria e si dirigono verso la cassa. A quel punto queste persone iniziano a spingersi tra di loro e prendono letteralmente d'assalto il commesso. E lì quindi nasce anche l'interesse di questa persona per capire esattamente cosa sta succedendo. A quel punto entra un'altra persona in libreria che non soltanto corre verso la cassa ma lo fa gridando anche stanno per finire, stanno per finire, sono le ultime copie. E quindi lì nasce in questa persona anche il desiderio di capire esattamente di cosa si tratta. E lo spot finisce con una frase che appare giù con su scritto per esempio se anche tu hai sofferto almeno una volta nella vita di insonnia non puoi non leggerlo. E così appare la copertina del mio libro Cartesio ti odio iperbolicamente. Ecco, in poco meno di 30 secondi ho provato a riassumere le quattro fasi del modello AIDA che è uno strumento fondamentale del marketing e che descrive esattamente gli stati emozionali in cui si trova un consumatore quando entra in contatto con un nuovo brand oppure con un nuovo prodotto. E adesso vediamo meglio dichiarire questo concetto ma sempre dopo la sigla. Stavolta un jingle mio. Stavolta un jingle mio. Allora, questo modello nasce addirittura nel 1898 quando il suo fondatore Elmo Lewis sosteneva che la missione della pubblicità è quella di attirare un lettore affinché inizi a leggere poi suscitare il suo interesse perché continui a leggere e infine convincerlo perché creda in quello che sta leggendo. Quindi in realtà un buon messaggio pubblicitario deve attirare l'attenzione di un consumatore deve creare il suo interesse suscitare un desiderio e infine aiutare il consumatore a prendere una decisione. Quindi non è altro che un modello a gerarchie di effetti dove in concreto vi è una relazione specifica tra una causa ed un effetto che spinge il consumatore a fare un passo in avanti e a cambiare anche quindi il suo stato emozionale. Il nome AIDA è un acronimo e nasce dalle iniziali delle quattro parole Attention o Awareness Interest Desire Ed Action Noi ce lo siamo già detti che i clienti vogliono essere coccolati che vogliono vivere un'emozione e proprio perché i clienti oggi vogliono comprare relazioni vogliono comprare emozioni e vogliono comprare magia e il modello AIDA attraverso l'analisi proprio del processo decisionale di acquisto che è fatto di una fase cognitiva una fase affettiva e una fase comportamentale e spiega esattamente come l'obiettivo del nostro messaggio pubblicitario sia quello di attirare l'attenzione di un consumatore e condurlo all'acquisto del prodotto che gli stiamo offrendo. Detta così può sembrare tutto molto complicato ma vediamo adesso di renderlo molto più semplice declinando proprio queste quattro fasi del modello AIDA. Prima fase quella dell'attenzione e quella anche più delicata perché il consumatore ancora non ci conosce quindi non conosce quello che gli stiamo offrendo. Dobbiamo perciò fargli acquistare consapevolezza del nostro brand e del nostro prodotto. Questo possiamo farlo attraverso vari espedienti come per esempio quello di dare maggiori informazioni oppure addirittura utilizzando elementi audio a un volume più elevato rispetto al messaggio che stiamo interrompendo come per esempio si fa negli spot in tv oppure si possono utilizzare jingle pop o jingle particolarmente orecchiabili oppure anche utilizzare per esempio degli speaker molto conosciuti. Si possono utilizzare dei riferimenti sessuali secondo la skill sex cell dove letteralmente il sesso vende. Si può fare ancora leva su elementi visivi e accattivanti come possono essere le insegne o come i banner lampeggianti o che si muovono sullo schermo del pc anche se bisogna stare molto attenti alla soglia del dolore del consumatore perché potrebbe essere un messaggio troppo invasivo e di conseguenza dargli anche un'esperienza poco piacevole. Si può ricorrere ad elementi che riportino il cliente alla propria infanzia fare leva per esempio sull'effetto nostalgia come ha fatto la Nintendo nel 2016 con la NES Class Edition puntando proprio su Super Mario Bros. Oppure nel caso dei negozi fisici si può ancora fare uso di stimoli uditivi ed olfattivi come per esempio fanno le pasticcerie e le panetterie convogliando all'ingresso del locale il profumo del pane e dei cornetti appena sfornati. Ma quello sul marketing in store magari sarà un argomento di un altro video perché veramente dietro c'è un mondo di stimoli sensoriali che colpiscono tutte e cinque i nostri sensi. Ma in questo momento immaginate soltanto però che la Mattel nell'allestimento degli scaffali con i propri prodotti utilizza dei profumatori con aromi di borotalco e di vaniglia per commercializzare i suoi prodotti a marchio Fish & Price e Barbie ma del resto il loro motto è che per creare dei prodotti bellissimi per i bimbi è necessario mettersi nei loro panni e sinceramente come dargli torto. Seconda fase, quella dell'interesse e una volta che abbiamo catturato quindi l'attenzione del nostro consumatore bisogna mantenere vivo il suo interesse perché magari ci chieda delle maggiori informazioni anche se in questo caso forse ci viene ancora più comodo provare a capire ancora di più quali sono le sue reali esigenze quali sono i suoi bisogni e per esempio capire quali sono i suoi problemi. Terza fase, quella del desiderio in questa fase il consumatore esprime già la sua volontà di voler acquistare il prodotto e quindi noi dobbiamo essere più bravi nell'accentuare i nostri pregi e far capire al consumatore che siamo alla risposta effettiva ai suoi bisogni e alla risoluzione dei suoi problemi. Quarta fase, che è l'ultima è quella dell'azione e in base a quello che è il nostro obiettivo il nostro cliente può acquistare il nostro prodotto può chiederci altre informazioni si può iscrivere alla nostra newsletter oppure potete iscrivervi voi al mio canale e solitamente questo invito all'azione spesso è accompagnato anche a un limite temporale per mettere maggiore pressione al cliente oppure addirittura si possono aggiungere dei plus quindi dei servizi aggiuntivi nel mio caso per esempio dopo che vi siete iscritti al canale se nei commenti scrivete anche alla vostra data di nascita il giorno del vostro compleanno gratuitamente vi canterò Happy Beer Day scherzo ma per finire questo modello Aida che è nato più di 120 anni fa nonostante sia oggettivamente un po' datato rappresenta comunque un'ottima base per un buon messaggio pubblicitario anche se adesso è diventato insufficiente man mano infatti il mondo è cambiato e con esso sono cambiate anche le abitudini di acquisto dei consumatori e la percezione proprio che hanno dei brand se non sbaglio in Italia il primo spot pubblicitario in tv è apparso nel 1957 a marchio Shell e in quel momento esisteva un unico spazio pubblicitario sulla Rai durava più o meno 10 minuti dopo il telegiornale ma da allora le cose sono cambiate e attirare l'attenzione dei clienti è diventato molto più difficile perché secondo una ricerca di Nielsen già nel 2000 la soglia di attenzione dei consumatori è di 12 secondi e ad oggi addirittura meno di 8 quindi la riduzione del processo decisionale di acquisto ad un semplice schema di causa-effetto oggi è obsoleto e spesso risulta anche inefficace e questo è il motivo per cui il modello Aida è stato più volte modificato ed anche esteso con i modelli per esempio Aidas o Aidas Love di cui però vi parlerò magari nel prossimo video perché mi sa che già questo è diventato un po' lungo e poi col cazzo che vi iscrivete al mio canale l'ho detto vi ho detto già di iscrivervi al canale? scherzo dai ciao ci vediamo alla prossima